buongiorno volevo fare questa testimonianza io ho conosciuto il dottor rada in un'occasione di un convegno a bologna e parlando di un problema che mi persiste da qualche mese su questo abbraccio che praticamente non riuscivo a sollevarlo facevo fatica perché avevo un forte dolore e anche fare questo movimento non avendo mai fatto una diagnosi non sapendo appunto di che cosa si tratta ho parlato con il dottor rada e lui mi ha consigliato di prendere di assumere mi ha dato due capsule di questa dimensione garantendomi che in 15 minuti il dolore sarebbe sparito in effetti passato neanche 15 minuti il dolore iniziava cadendo gradualmente da 8 che avevo diciamo di dolore è andato a 4 finché proprio completamente a sparire quindi ringrazio il dottore per questa per questo prodotto e grazie a voi